La pasta de cecco è essiccata? Tentamente! E a bassa temperatura. E per un bel sugo con gli scampi, che numero usiamo? Numero 25. Mille Enrique, super! Niente di meglio del 19. Lo zitone. Il 30? Mezzitufoli. Numero 10. Fedelini. Una coscia. Un migliore o un numero 7. 7 linguini. Ogni numero è buono, basta che sia de cecco. Frivolosamente! Frivolosamente!